Musica Buonasera, ben ritrovati. Nuovo spazio dedicato al telegiornale. Non erano tornate a casa dopo la scuola e non avevano dato loro notizie alle rispettive famiglie. Protagoniste dell'allontanamento durato alcune ore due ragazzine di 15 anni residenti, una a Verona e una a Rovigo. Sono state ore di grande apprezzione e paura per i familiari. Fortunatamente poi la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi. Sono state ritrovate ieri sera verso le 23 da una pattuglia della Polizia Municipale non lontano dalla stazione di Bologna. Le forze dell'ordine erano state allertate verso le 18.30 di ieri dai genitori. I vigili hanno notato le due ragazze in piazza e le hanno identificate avendo conferma che erano proprio le due giovani che si stavano cercando. Sono state accompagnate al comando, sono state assistite poi raggiunte dai familiari. Siti internet dove era possibile vedere televisioni in streaming oppure film e tanto altro. Il tutto in maniera completamente illegale e per di più percependo denaro dagli abbonati. Ecco il resoconto di un'operazione della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza ha stroncato un gruppo di pirati informatici che offriva via web film, eventi sportivi, serie tv e concerti sia in streaming live, cioè in diretta, sia on demand. Cinque persone sono state denunciate, 41 server dislocati in tre continenti sono stati oscurati, tre server in Italia sequestrati, così come 50 siti illegali. Le indagini svolte dal nucleo speciali Frodi Tecnologiche del Comando Unità Speciali, che ha eseguito numerose perquisizioni in varie regioni italiane, sono state coordinate dal PM di Roma Nicola Maiorano, titolare dell'inchiesta. Gli investigatori hanno spiegato che tutti i siti su server situati in Italia e all'estero proponevano veri e propri palinsesti per facilitare la scelta del programma preferito e richiedevano un abbonamento mensile di 10 euro a fronte di un'offerta commerciale pari a circa 100 euro. Le cinque persone denunciate rischiano fino a quattro anni di carcere. Con l'operazione è stato accertato che in una community erano registrati più di 340 mila utenti. Considerando che tutti abbiano sottoscritto un abbonamento illegale, la stima del volume d'affari si aggirà sui 3 milioni e 500 mila euro al mese, ossia oltre 40 milioni l'anno. I dipinti rubati nella rapina al museo di Castelvecchio a Verona e recuperati in Ucraina presentano danni diffusi ma apparentemente contenuti. Lo affermano Paola Marini ed Ettore Napione, i due periti che sono stati nominati dalla procura di Verona che questa mattina a Kiev ha esaminato proprio le opere d'arte. I dipinti sono tutti originali, hanno spiegato i due esperti. Tutte le tele sono state tagliate lungo la battuta del telaio e sono prive dello stesso. Manca la cornice ottocentesca del San Girolamo di Jacopo Bellini. Marini e Napione hanno concluso sottolineando che i danni sono da approfondire in sede di perizia di restauro anche ai fini assicurativi. Adesso parliamo di un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri in provincia di Vicenza, un incidente che ha provocato un ferito e grossi disagi alla viabilità. Il conducente di un mezzo pesante è rimasto ferito ieri pomeriggio in seguito a un incidente. Lungo la provinciale 500 a Sarego in direzione Lonigo, il mezzo senza controllo è finito contro due platani che delimitano la careggiata, poi si è rovesciato sull'asfalto perdendo anche tutto il carico. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo. Sul posto è arrivato anche il 118 che si è preso cura del conducente. La polizia stradale ha effettuato i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica. A Mestre, numerosi residenti della zona di Via Rubens e Via Ischia si sono rivolti al 113, segnalando forti boati dei quali non riuscivano a intuire la provenienza. Inoltre altri riferivano che contestualmente veniva a mancare anche la corrente elettrica. In tanti quindi erano pure spaventati. La situazione si è ripetuta con chiamate dalla zona di Via Michele Marieschi. Questa volta però i residenti riferivano al 113 che vi erano anche dei cavi dell'alta tensione caduti a terra proprio in mezzo alla strada. Sul posto si sono portate dunque le volanti e anche il 115 che ha messo in sicurezza la zona. Gli agenti della sala operativa hanno svolto alcuni accertamenti dai quali è emerso che vi erano alcuni guasti alla centrale elettrica della zona e i boati erano dovuti ai tentativi di riattivazione della corrente da parte degli operatori addetti. Questa mattina siamo andati in centro a Padova, proprio davanti a Palazzo Moroni. È stato allestito per una settimana un campus dedicato alla salute e alla prevenzione. È stata una settimana impegnativa in tutta Italia per la prevenzione, parliamo di tiroide, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Ci troviamo a Padova dove è stato allestito un campus dedicato e siamo con la professoressa Scarone. Buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo organizzato in occasione della settimana mondiale della tiroide dal 23 al 27 maggio anche questo campus della salute, cioè un'iniziativa dedicata alla prevenzione, alla prevenzione della tiroide che è una patologia così diffusa nella popolazione, probabilmente il 20-30% della popolazione ha problemi di tiroide spesso non gravi, curabilissimi, ma comunque ci sono, ma non solo a quella della tiroide abbiamo aggiunto anche la prevenzione in dermatologia, la prevenzione metabolica, cioè la prevenzione del diabete della pressione alta, la prevenzione in campo di malattie reumatiche, anche queste molto diffuse abbiamo avuto anche il fisiatra e voi sapete quanto i problemi articolari affliggono la popolazione e devo dire la sensazione è che abbiamo avuto un grande successo perché ieri abbiamo effettuato più di 200 visite in un bellissimo ambulatorio mobile dato dalla Croce Verde di Padova Avete allestito anche delle tende? E due tende da campo trasformate in ambulatori, due tende da campo che sono state date dalla protezione civile regionale e in modo particolare dalla squadra sanitaria degli Alpini di Vicenza che voglio ringraziare perché c'è stato un gran lavoro di tutti questi volontari Oggi già stiamo superando a quest'ora le visite fatte ieri, già oggi sono più di 100 abbiamo cominciato verso le 9 e mezza di questa mattina e andremo avanti fino alle 6 dobbiamo chiudere Ecco, se dobbiamo parlare di prevenzione, quanto è importante? Io credo che sia una delle missioni più importanti dei medici perché prevenire vuol dire anticipare o addirittura il manifestarsi di una malattia o diagnosticarla in una fase molto precoce quando la cura è più semplice, può essere radicale, può essere conclusiva e se mi permettete, tra l'altro è anche un sistema che fa risparmiare soldi al nostro servizio sanitario perché prevenire ovviamente blocca sul nascere certi problemi che poi invece vanno affrontati con metodiche di diagnosi, con cure spesso complesse e anche ovviamente in termini di costi estremamente impegnative Parliamo di questa settimana di prevenzione, è stata utile come prevenzione ma sono stati scoperti anche dei casi che sono intervenuti in situazioni che potevano essere pericolose? Certo, sia chi ha fatto l'ecografia tiroidea ed eravamo noi dell'endocrinologia dell'azienda ospedaliera di Padova ma anche endocrinochirurghi, anche colleghi della clinica medica terza hanno trovato nodi estremamente sospetti per cui in questo caso il paziente è già stato indirizzato ad un percorso presso l'azienda ospedaliera per fare gli accertamenti necessari e poi l'eventuale correzione chirurgica Professoressa, grazie, buon lavoro e buona giornata e naturalmente ricordiamo la grande opera di volontariato che è stata messa in campo durante questa settimana Senz'altro, grazie ai volontari, nulla avremmo potuto fare senza di loro e grazie a voi che ci avete dedicato attenzione a favore della nostra cittadinanza Grazie Una notizia che arriva dal mondo dello sport padovano non ci sono problematiche relative al progetto del nuovo stadio Plebiscito La relazione dei vigili del fuoco è arrivata alla conclusione Il progetto, così come è stato predisposto, potrà essere realizzato Le eventuali criticità emerse dal nulla osta di fattibilità rilasciate dal comando sui percorsi di esodo o avvicinamento allo stadio sono stati esaminati anche dal Coni Nazionale di Roma il quale ha valutato il progetto in via preliminare del tutto compatibile con la normativa nazionale Nel mese di maggio le scolaresche di solito, succede ormai da diversi anni incontrano i pompieri Si tratta di cicli di incontri che vedono i piccoli alunni entrare nelle caserme e scoprire quindi da vicino le attività dei vigili del fuoco Vi facciamo vedere la giornata conclusiva che si è svolta a Vicenza Terminato questa mattina il ciclo di visite delle scolaresche al comando dei vigili del fuoco di Vicenza Da tempo ormai nel mese di maggio i ragazzini incontrano i pompieri una visita sempre molto attesa dai giovanissimi scolari un incontro ludico, didattico che fa sempre sognare, fantasticare e imparare Oltre 2000 bambini di Vicenza e provincia hanno assistito con entusiasmo, curiosità e stupore al montaggio della scala italiana a un incendio, al salvataggio di una persona con l'autoscala al soccorso di una persona coinvolta in un incidente Enorme meraviglia dei bambini quando a un tratto si è sentito il rombo dell'elicottero Drago 80 del reparto volo di Venezia, in volo di addestramento, volteggiare nel cielo sopra la sede L'equipaggio dell'elicottero ha eseguito una manovra di calata e recupero tramite il vericello di un aereo soccorritore sul tetto della sede di Via Farini L'incontro è terminato con dei giochi d'acqua e la visita dei mezzi dove i bambini hanno potuto indossare l'elmetto dei pompieri, salire sui camion e suonare la sirena La manifestazione dei pompieri vicentini si è svolta in collaborazione con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco che curano anche tutte le attività legate a pompieropoli E adesso l'appuntamento con il Fisco in 60 secondi Oggi vi spieghiamo quando e per quali certificati è necessaria la marca da bollo Alcuni certificati possono essere lasciati in carta semplice, per altri ci vuole l'imposta Vediamo quali Ad esempio tutti i certificati anagrafici sono soggetti all'imposta di bollo che attualmente ammonta a 16,52 euro per i diritti di segreteria Il certificato è esente quando la richiesta viene fatta da uno studio legale o da un avvocato per uso giudiziario come la notifica di un atto di percetto una citazione o un altro atto giudiziario In carta semplice invece si possono fare I certificati di iscrizione alla scuola obbligatoria materna Asilo, nido e borse di studio Quelli per ottenere l'assistenza sanitaria Per l'iscrizione alle liste di collocamento I documenti per la leva militare I sussidi per l'ammissione in istituti di beneficenza Gli atti e le copie del procedimento di accertamento e riscossione delle imposte Le istanze di rimborso imposte Gli atti per la procura di minori Procedimenti di adozione speciale e affidamento I certificati richiesti alle ASL Gli atti e i documenti relativi alla formazione delle viste Le denunce di smarrimento e duplicati di atti e documenti emessi della pubblica amministrazione I certificati dello Stato civile e per la scuola superiore Le pratiche di divorzio ma non di separazione Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà Queste non devono essere perciò autenticate e quindi non scontano più l'imposta di bollo Gli atti, documenti, istanze e certificazioni per le onlus Le istanze firmate davanti al funzionario incaricato a ricevere la documentazione Il perfezionamento pratiche assicurative La partecipazione a pubblici concorsi Le domande, certificati, documenti e ricorsi in materia di assicurazione sociale obbligatorie Assegni familiari, pensioni, iscrizione alle liste di collocamento In tutti gli altri casi, quindi, quelli non elencati ed appena esposti Ci vuole l'imposta di bollo di 16,52 euro Come sempre, in caso di dubbi o per chiarimenti Non esitate a contattare il vostro CAF o professionista di fiducia Buonasera Continuiamo il nostro appuntamento dedicato all'informazione anche con altre notizie Il 29 maggio a Padova si svolgerà la biciclettata sugli argini Nel servizio i dettagli per chi vuole partecipare Domenica a Padova si svolgerà la biciclettata sugli argini Partenza alle 14.30 da Prato della Valle Si tratta di un itinerario facile, adatto anche alle famiglie 15-20 km, che prevede, dopo un percorso in città a lunghi tratti sugli argini immersi nella natura in uno splendido panorama fluviale Il ritorno, previsto per le 17.30, sempre in Prato della Valle Per gli iscritti alla sfida europea in bicicletta i chilometri sono validi per la classifica di Padova La biciclettata rientra tra le attività previste dalla campagna di promozione della ciclabilità del progetto europeo Velocità L'evento è organizzato dal Comune con l'Associazione Amici della Bicicletta E adesso, come ogni fine settimana, è arrivato il momento di approfondimento dedicato alla storia e allora incontriamo Marisa Sottovia, esperta di storie Grazie, grazie gentilissima Patrizia Di recente è stato esposto il busto di San Lorenzo del Donatello presso il Palazzo della Ragione di Padova È un'opera importante per il messaggio che contiene ma anche per le vicende del suo ritrovamento E allora vediamo chi era San Lorenzo un santo spagnolo nato a Uesca, una località alle falde dei Pirenei nel 225 d.C. ed è morto a 33 anni a Roma Della sua infanzia non si hanno molte notizie ma è certo che studiò a Saragozza per completare gli studi umanistici e teologici ed è in questa occasione che conosce il futuro Papa Sisto II che lo convinse a trasferirsi a Roma per seguire le opere caritative A Roma in quel periodo era imperatore Valeriano che scatena tutta la sua violenza nei confronti dei cristiani e con editto dispone che vengano uccisi vescovi, presbiteri e diaconi ed è così che purtroppo, primo ad essere ucciso è stato il Papa Sisto II e i suoi collaboratori di cui anche Lorenzo Fu un martirio atroce ed è resta famosa la frase che pronunciò i suoi aguzzini sono corto nella parte destra giratemi nella parte sinistra Il fatto avvenne nel 10 di agosto e che è una data che si collega a quella che è la notte delle stelle cadenti di San Lorenzo San Lorenzo fu un santo molto venerato patrono di molte città protettore di bibliotecai e anche dei librai ma torniamo a questo busto, a questa opera appunto che è esposta al Palazzo della Ragione come dicevamo che è un'opera di forte energia di calma, di meditazione di un uomo di un uomo che è disposto a tutto per la difesa della fede è un uomo che crede in Dio e non teme nulla nulla lo spaventa e affronta il martirio in questo volto c'è tutta la potenza del Donatello e allora adesso andiamo a vedere un po' quella che è stata la vicenda del ritrovamento questo busto è stato per secoli collocato in un portale di una chiesa dedicata al Santo in Toscana a Borgo San Lorenzo i paroci non si sono mai resi conto del valore di questa statua ma se ne rese conto un antiquario Stefano Bardini che acquistò questa statua per un valore di 5.000 lire e successivamente fece rifare un'altra statua uguale per ricollocarla in questo portale questo antiquario poi più avanti vendete la statua al principe dello stato del Liechtenstein Giovanni II che tenne questa statua appunto fino al 1929 poi ci furono altre vicende e riappare questa opera in una asta ad Amsterdam nel 2003 un altro antiquario si accorge del valore di questa statua ed è un antiquario americano Peter Silverman che è il tuttora proprietario e l'acquista lui ed è colui che ha prestato questa statua per la mostra che c'è appunto a Palazzo della Ragione che è aperta sino al 25 settembre e che appunto in questo frattempo possiamo visitare anche perché dopodiché ritorna a Firenze nel Museo del Duomo ricordiamo inoltre che c'è anche un'altra mostra presso il Museo dei Musei Civici e degli Eremitani dove sono esposte otto tele del Tintoretto Jacopo Robusti che si credevano delle copie e delle imitazioni studi invece hanno dato esito tutt'altro esito e sono opere autentiche del Tintoretto quindi si possono apprezzare perché poi ritorneranno nelle sale del comune quindi abbiamo due bellissime mostre da vedere Palazzo della Ragione e Musei Civici degli Eremitani Grazie a Marisa Sottovia per l'approfondimento dedicato alla storia vi ricordo questa rubrica ogni fine settimana parliamo adesso di clima cosa dobbiamo aspettarci da questo fine settimana che sta arrivando il promontorio anticiclonico si indebolirà nel fine settimana permettendo l'ingresso di correnti umide sud occidentali che porteranno ad una serie di fasi di tempo molto variabile anche instabile con rovesci e temporali tra la seconda parte di domenica e probabilmente fino a martedì le temperature massime saranno più basse a partire da domenica è tutto per questa edizione grazie per essere stati con noi vi auguro una buona serata a partire Oggi vorrei parlare un po' del sunto di tutto quello che abbiamo trattato in queste puntate. Abbiamo parlato di gengive, abbiamo parlato di prevenzione, di funzione masticatoria, abbiamo parlato dell'osso. Io vorrevo solo chiederle, spesso ci sono queste problematiche che riguardano l'osso, può ricrescere o è sempre tutto perduto? L'osso a volte può ricrescere, non sempre, però l'osso spesso nelle tasche parodontali riesce a ricrescere e rifissa anche i denti. Però tornando, mi ha fatto una bella domanda, per questo la ringrazio Patrizia perché volevo parlare dell'allungamento dei denti. Tutti dicono, ma mi sono allungati i denti, mi sono salite le gengive. Ma la gente non ha capito che le gengive sono sempre là, ma è l'osso che si è ritirato, riassorbito o rosichiato. E' l'osso che è andato su nei macellari. Allora vedi queste signore che hanno i denti lunghi, ma se fanno la cura delle gengive possono evitare questi allungamenti. L'allungamento dei denti è un indice di invecchiamento e si può evitare. Si può evitare perché se noi teniamo una gengiva sana, i denti non si allungano. E' brutto vedere, per me è brutto vedere delle signore, belle signore, ben vestite, eleganti, con dei denti lunghi. Questo problema si può evitare, sempre con la cura delle gengive, è quello che facciamo normalmente, usando certi farmaci per tenere la gengiva sana. Dopo ogni tanto bisogna fare la pulizia, bisogna fare dei taglianti, bisogna avere cura della gengiva. E allora eviteremo le gengive rosse, eviteremo l'allungamento dei denti, che per me è una cosa che si può prevenire. Io nel mio studio la prevengo, anzi anch'io non ho le gengive retrate, non ho i denti allungati, perché ho sempre cercato di tenere una gengiva sana. Ok, quindi un problema anche estetico che si può risolvere? Ma direi sì che si può risolvere. Basta fare la prevenzione, bisogna cominciare da giovani, però lei direi non può a 60 anni, adesso mi prevengo l'allungamento di questa cura, si intraprende in giovane età. Abbiamo curato una paziente di 14 anni, anche 10 anni, uno può avere la malattia anche a 10 anni, 15. Non è perché con l'invecchiamento la malattia si aggrava, ma perché non si è fatta prevenzione, e quindi bisogna iniziare presto per evitare l'allungamento dei denti, la perdita dell'osso. Quindi noi dobbiamo preoccuparci prima, e a volte vedono questo sanguinamento della gengiva, ma sì, per un po' di sangue. Non gli danno la giusta importanza, ma il sintomo del sangue è segno di infiammazione. L'infiammazione è segno della malattia, che può danneggiare l'osso. Noi possiamo evitarlo se ogni tanto andiamo da un esperto di queste malattie e facciamo le pulizie regolamenti, e quando vediamo che la gengiva è rossa, avrà qualche problema, ci saranno le tasche, e poi tutti credono di... Quando io dico, ma tu hai le malattie delle gengive, o la piorea, sai che io curro... Ah no, io la piorea non ce l'ho mica, sa. Ah, tutti dicono, ah io la piorea. No, no. E invece a 60 anni è quasi in matematico avere questo problema, insomma, anche più giovani, ma a 60 anni mettetevi il cuore in pace, il problema delle gengive ce l'avete? E come? Ecco, quindi insomma un problema che può capitare, però è importante affrontarli i problemi e soprattutto prevenirli da quello che abbiamo capito, no? Sì, beh, è importante prevenirli, e cioè questo consiste nel fare delle pulizie dal dentista, andare a recarsi spesso dal dentista e fare queste igiene, farsi controllare dalle igieniste, da persone un po' specializzate, cioè preparate, diciamo, perché mica tutti conoscono il problema della gengiva, alcuni no, e quindi bisogna, e dopo dovete anche informarvi che dentista andate, bisogna vedere perché tutti non hanno lo stesso livello di preparazione, cioè c'è qualcuno che si aggiorna di più, come sono io, che vado in giro per tutta Italia per aggiornarmi, e l'ho sempre fatto e lo sto facendo ancora nonostante i miei 73 anni, ma c'è gente che non gradisce aggiornarsi, di migliorare la propria situazione professionale, quindi sta a casa, non si informa e quindi non conosce neanche il problema delle gengive. Dottore, io la ringrazio, abbiamo concluso questo ciclo di approfondimento e le auguriamo buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a tutti.